Cosa succede se non capisci le indicazioni del medico? Beh, è la domanda che si sono fatte dei ricercatori in Irlanda della Cork University e riportiamo i risultati della ricerca nel secondo articolo del numero di maggio di Sentire Meglio. In realtà molto spesso si pensa che i casi di malasanità o problematiche di salute siano legate a professionisti superficiali o errori medici. In realtà alla Cork University hanno scoperto che non è così, che banalmente ci sono delle statistiche che riportiamo nell'articolo che dicono che chi ha problemi d'udito non capisce o travisa quelle che sono le indicazioni che gli dà il medico. Quindi in certi casi davvero sentire in modo chiaro potrebbe, se non salvare la vita, almeno salvare la salute tua o dei tuoi cari. Quindi ti consiglio di dare una letta a questo articolo perché è davvero interessante.